il gioco temo sul canale è un gioco di azione se non mi sbaglio lo dovete commentare ruvido, gorrietevelo e scrivetelo nei commenti se vi piace o no il gioco temo sul canale ai un progetto un piaccion che si è nel ora Oh no! Oh no! Oh no! Eh, eh, don't get the gun! Ah! Oh no! Oh no! Beh, venga, ma non fai, lascia il bando! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.